Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Con questo video si inaugura con il premesso di Allah subhanahu wa ta'ala una playlist interamente dedicata al secondo pilastro dell'islam ossia la preghiera Ora qualcuno potrebbe dire Eh ma io faccio la preghiera da 80 anni ho imparato tutto da mia bisnonna perché dovrei guardare questi video? Uno ha maggior ragione se si fa la preghiera da tanto tempo bisogna studiare perché se ci sta anche una piccola mancanza o dimenticanza importante nella preghiera questa risulterà invalida e nel giorno del giudizio sarà come se non l'avessi mai fatta Due la religione si impara dalle fonti autentiche di essa e dai sapienti Terzo anche se conosci molto sulla preghiera lo scopo è comunque quello di ricordare i concetti importanti e ricordo inoltre che i commenti sono aperti a segnalazioni di eventuali errori o dimenticanze da parte del sottoscritto Detto ciò vi ricordo di iscrivervi e di attivare la campanella per restare sempre aggiornati sui nuovi video Oggi parliamo della purificazione come è noto per poter fare la preghiera è necessario essere in stato di purità vediamo insieme cosa si intende Il musulmano per poter adempiere all'adorazione deve purificare se stesso dall'interno dal politeismo, dall'invidia, dalla superbe, dalla miscadenza e così via Fatto ciò l'impurità può essere di due tipi può essere fisica, najasa, oppure astratta adat, una astratta oppure anche rituale detta anche rituale L'impurità fisica e najasa è una sporcizia fisica visibile che la religione ci impone di purificarci da essa prima di iniziare l'adorazione tutte le cose si presumono essere pulite e pure ad esempio se abbiamo il dubbio circa la purità di un vestito ma non vediamo nessuna macchia nessun tipo di macchia di esso significa che quel vestito è puro se vogliamo iniziare a fare la preghiera dobbiamo controllare obbligatoriamente tre cose uno il nostro corpo secondo i vestiti terzo il luogo in cui facciamo la preghiera dobbiamo assicurarci che queste tre cose siano libere da ogni forma di impurità quindi ora chiediamoci quali sono le cose che sono considerate impurità uno l'urina e le feci umane secondo il sangue a meno che non si tratti di piccole quantità le feci ed urine di animali che non si possono mangiare il cane e il maiale quinto gli animali morti eccetto i pesci e gli insetti l'essere umano morto invece non è considerato impurità vi faccio ora una domanda lo sperma è considerato una cosa impura si può fare la preghiera con un vestito che ha una macchia di sperma se avete risposto che è una cosa impura che non si può fare la preghiera avete sbagliato perché lo sperma è considerato una cosa pura e anche se uno dovesse fare la preghiera con un vestito con un po' di sperma la preghiera è comunque accettata comunque bisogna essere sempre puliti davanti ad Allah perché quando si va davanti ad una persona importante ci si veste nel migliore dei modi si tiene alla propria pulizia lo stesso vale per Allah a maggior ragione con Allah dobbiamo essere sempre puliti però noi adesso cerchiamo di capire quali sono le impurità perché le impurità sono quelle che invalidano la preghiera quindi come ci si purifica dalle impurità dalle urine e dalle feci si si può purificare in due modi uno con le stinge ossia il lavare con acqua le parti intime da cui esce l'urina o le feci due gli stigmar il pulire sempre le due parti ma con qualcosa di diverso dall'acqua come può essere la carta igienica oppure i sassi le foglie tuttavia ci sono delle cose con cui non si può fare gli stigmar come le ossa degli animali oppure il cibo oppure le foglie che sono rispettate ossia che sono citate nel corano nella sunna che hanno una certa importanza con queste cose non si può fare gli stigmar un errore molto diffuso non si può fare gli stigmar un errore molto diffuso è quello di associare gli stigmar con il luodu l'abluzione per cui una persona prima di fare l'abluzione fa gli stigmar le due cose non c'entrano fra loro gli stigmar è obbligatorio quando si urina oppure si sperano le feci in quel caso lì è obbligatorio fare gli stigmar l'abluzione l'abluzione invece serve per entrare nello studio di pulità rituale questo tipo di pulizia è molto importante perché il profeta di Allah passando davanti a due tombe disse che essi venivano torturati e uno di loro veniva torturato nella tomba proprio perché non si puliva con gli stigmar o con gli stigmar per purificare le superfici o i vestiti o le parti del corpo in cui vi è traccia di impurità è sufficiente lavaggio con acqua affinché non si veda più per esempio se cade un po' di urina in un pantalone bisogna bagnare la parte macchiata con un po' d'acqua dopodiché si può fare la preghiera l'impurità del cane disse il profeta di Allah se un cane lecca un vostro piatto questo va lavato sette volte è di una di esse con la terra secondo i sapienti si può fare anche uso dei detersivi al posto della terra attenzione però che il cane non è tutto impuro per cui se lo si tocca o si accarezza non per forza bisogna lavarsi le mani né toccarlo annulla l'abluzione ovviamente ciò che è impuro sono i suoi bisogni e la sua saliva ciò che è umido diciamo e queste cose non vanno lavate sette volte ma solo quanto basta toglie l'impurità il lavaggio sette volte è prescritto solo per il recipiente del cane per il resto bisogna lavare quanto basta togliere l'impurità per cui può essere una volta due volte tre volte e così via finché non si vede più l'impurità un giorno il profeta faceva la preghiera con le scarpe ed era imam davanti ai suoi compagni ad un certo punto viene l'angelo Gabriele e le informa che nelle sue scarpe vi è un'impurità allora il profeta sallallahu alaihi wa sallam si torse le scarpe e tutti i suoi compagni vedendolo hanno anche loro tolto le loro scarpe e hanno completato la preghiera da questo episodio capiamo le seguenti cose si può fare la preghiera con le scarpe se dopo la preghiera ci accorgiamo di un'impurità che non avevamo notato prima la preghiera comunque valida e non va ripetuta per quanto riguarda il sangue mestruale disse il messaggero di Allah sallallahu alaihi wa sallam ad una donna ti basta lavare il sangue e le piccole tracce che rimangono non contano non fanno alcun male parliamo ora dello stato di impurità rituale o astratto che riferisce da quello precedente che abbiamo visto dal nasace che è una cosa fisica che si può vedere è uno stato di impurità non visibile quindi non è una sporcizia visibile ma è una cosa che comunque non ci consente di fare la preghiera ad esempio se una persona urina e fa l'istingea si toglie l'impurità visibile per cui l'impurità visibile si toglie ma rimane l'impurità rituale e per toglierla deve fare l'abluzione di impurità rituale vi sono due tipi una minore e un'altra maggiore per quella minore bisogna fare l'abluzione per quella maggiore bisogna fare il rosl parleremo inshallah del voodoo e del rosl in dettaglio nei prossimi video della playlist grazie per aver seguito fino a qua e ma assalamà grazie per aver guardato